Io credo che Beatrice, vorrei concludere, lasciatemelo fare, volesse dire che esistono all'interno di un comportamento così gli stessi semi di solitudine, lo stesso senso di impotenza da parte di una persona che comunque si sente accerchiata. Poi intendiamoci bene, Beatrice ha tutti gli strumenti per poter fronteggiare questa situazione, è stanca di farlo ovviamente, però gli strumenti ce li ha, magari ci sono persone che questi strumenti non ce li hanno e quindi questo non dà luogo a episodi di grave entità, ma dà luogo per esempio a episodi di isolamento, di depressione e quindi anche gravi nelle loro singole patologie. Quindi non è che quello che sta succedendo nella casa quando succede e non succede sempre per fortuna sia grave, sia meno grave rispetto al delitto conclamato, ci sono le stesse, quei germogli che è bene stigmatizzare e veramente cercare di estirpare fin dall'inizio, non dobbiamo neanche permettere che questi germogli possano crescere. Ed è per quello che noi lo diciamo stasera con grande chiarezza.